Siete presenti? Il canale è aperto. Iniziamo l'altra sessione. Se e quando ci siete serve il vostro aiuto. Qualcuno? Buongiorno. Chi sei, Daniela? Chi c'è presente? Marcello? Ci sei, Marcello? Bisogna di te? Grazie. Bene. Ci siete? Vorrei bisogno di parlare di un argomento un po' specifico oggi. Siete disponibili quindi a rispondere? Perfetto. Volevo sapere. Che erano gli antichi egizzi. È possibile che non la fome? Alieni? Non è possibile. Persone di un altro pianeta? O entità di un altro pianeta? E se rispondono, chi vuole? Piramidi? Come sono state costruite? Grazie. E le cinesi? Come hanno trasportato le massi? E le cinesi? Non è la mani? Cosa servono gli animali? Cosa servono gli animali? Sono solo tombe? O hanno anche altre funzioni? E i faraoni? Chi erano i faraoni? Chi erano i faraoni? Non ci vuol dire, neanche io. E sono io. Non è il fome, non è il fome. La roba iomni. Non è il fome. Grazie.